Ecco, vedi Nicola, ho ammosso il pensiero, con un dito l'ho mosso. Allora, Sergio Rossoni con noi per presentare una grande serata che si tratterà lunedì. Intanto già l'introduzione rende curiosa che cosa sarà questa serata. Una serata che unisce musica e filosofia. Che cosa succede lunedì? Lunedì avremo qua con noi a Ferrara, al centro al parco in via Canapa 4, Massimo Cacciari. Che viene un po' a raccontarci quella che è la sua traduzione dell'Antigone di Sofocle. Una comedia del 400 avanti Cristo. Ed è molto bello questo fatto perché la filosofia deve stimolare la curiosità, deve stimolare la sapienza. Sai, non parliamo di filosofia con quel famoso detto l'amore per il sapere che sa di dolciastro. La filosofia è mettere in luce, mettere in chiaro. Come ti dicevo poc'anzi, la scienza dice la verità, non dice le cose giuste. E quindi per arrivare sempre alla verità bisogna muoversi continuamente. E il pensiero nella scrittura perde di mobilità. Quindi venite lunedì a vedere questo movimento dal mi al fa. E quindi avremo la compagnia di Bologna che declamerà questa commedia tradotta da Massimo Cacciari con delle musiche adatte, adeguate. È sempre il nostro format che continua jazz e filosofia, ma soprattutto filosofia e jazz. Nicola, sei invitato con tutti quelli che vogliono venire perché è una bella serata di cultura e di movimento di pensiero. Ecco, però io vorrei comunque aprirla veramente a tutti. Chi sta ascoltando adesso magari potrebbe pensare che non sono preparato, non sono comunque competente. Ecco, invece l'obiettivo è il contrario, cioè quello di aprire a tutti la filosofia e la cultura. Nicola, la filosofia nasce in piazza, non nasce nell'università, negli istituti. E guarda, ho visto pochi giorni fa un film su Steve Jobs che diceva che il nostro PC deve diventare facile per tutti. La filosofia è facile. Andiamo al bar, comincia da lì. Andiamo a prenderci il caffè, comincia da lì. Dalla piazza c'era qualcuno che faceva filosofia nelle valli, nell'acqua stagna, no? Sappiamo bene chi è, per i patetici. Ma venite perché è semplice. La parola, comunque, raggiunge tutti, è una pergamena che rotola. E sono convinto che sarà divertente e soprattutto sarà di cultura, un pochino più in alto. E Massimo Cacciari, a parte che per me è come se è la verità scritta quando parla lui, quando parla il filosofo, insomma. Per cui è una bella serata, non bisogna mancare, dai. Poi è gratuita. Allora, diamo l'appuntamento esatto a che ora e dove, lo ricordiamo. Allora, dalle ore 20, in via Canapa 4, Centro Ancescao, a Ferrara, si parlerà con Massimo Cacciari. Anzi, faremo parlare Massimo Cacciari e poi dopo magari si può fare un dialogo, un dialogo famoso. E poi ci sarà questa recita di quella compagnia di Bologna, della sua traduzione dell'Antigone, questa commedia di Sofocle. E c'è anche da cibarsi, se qualcuno vuole qualcosa da mangiare, lì c'è, insomma, c'è per tutti. E' gratuito l'evento, vi aspetto, anche te Nicola ti aspetto, mi raccomando. E te le stesse soprattutto. Grazie.